Depuratore e ramaglia inquinata? L'opposizione chiede chiarezza su alcuni aspetti documentali relativi all'inquinamento della zona di Santa Margherita di Fossa Lupara a Sestri Levante, individuata come idonea dall'amministrazione comunale a ospitare il depuratore di Vallata. Torna la Silent Disco a Sestri, massima attenzione alla sicurezza stasera in baia del silenzio, previsti 50 detti all'ordine, distribuzione delle cuffie dalle 21 si balla dalle 22 fino alle 3 di notte. Sui migranti atteggiamento ondivago di Di Capo, a Dio lo sono i consiglieri di minoranza del gruppo Noi di Chiavari, Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Gariballi. Buonasera dal TG Tiguglio, apriamo con Sestri Levante perché la minoranza consigliare chiede chiarezza su alcuni aspetti relativi al presunto inquinamento della zona di Ramai, individuata come idonea ad ospitare il depuratore di Vallata da parte dell'amministrazione comunale. Quali indagini preliminari sui parametri di inquinamento siano stati intrapresi dal comune di Sestri Levante, quali misure di prevenzione siano state adottate, chi abbia eseguito i recenti carottaggi e con quali esiti e il perché della discordanza tra le stime dei costi della bonifica. La minoranza consigliare a Sestri Levante ha presentato un'interrogazione a risposta scritta sulla questione dell'inquinamento della zona di Ramai a Santa Margherita di Fosso Lupara, individuata come sito idoneo a ospitare il depuratore di Vallata. La scheda, datata 2012, allegata allo studio di valutazione tecnico-economiche delle diverse proposte di localizzazione del sistema depurativo commissionato dalla città metropolitana di Genova a Industria e Ambiente SRL nel 2015, cita il comune di Sestri Levante come fonte in merito all'inquinamento della zona, ipotizzando un intervento di 5 milioni di euro per la bonifica, spiegano Marco Conti, Popolo per Sestri, Albino Armanino, Futuro per Sestri e Gianfranco Scartabelli e Giancarlo Stagnaro di Segesta domani. La presentazione della depurazione nel Tiguglio orientale, scaricabile dal sito web della città metropolitana, indica invece interventi per 6 milioni e mezzo di euro nell'ambito della realizzazione dell'impianto nella stessa area. Sul tema del depuratore prende posizione anche il Comitato per la Salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossolupara, che si dichiara indignato perché un comune a vocazione turistica non è ancora dotato di un depuratore moderno a fronte di una normativa comunitaria che sancisce l'obbligo dal 1991. Quello previsto a Aramaia, però, secondo il Comitato, sarebbe un ecomostro camuffato da impianto sportivo dove si giocherebbe a pallone a 8 metri di altezza sopra circa 50.000 metri cubi di cemento. Dopo lo scempio dell'inquinamento da parte della fabbrica di mattoni e della miniera di Libiola, dicono quelli del Comitato, per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossolupara, su cui non c'è certezza sulle modalità di bonifica, Santa Margherita di Fossolupara non può continuare a pagare un prezzo così alto. Abbandoniamo per un attimo Sesti perché ci ritorneremo per parlare di tutta un'altra cosa e andiamo a Mezzanego perché ha un tasso alcolemico di 2.57 grammi per litro di sangue, ovvero 5 volte il valore consentito dalla legge. Per questo un diciottenne di Bolzonas che è stato denunciato dai carabinieri dei Nucleo Radiomobile della compagnia di Sesti Rilevante per guida in stato di ebrezza. Il ragazzo l'altra sera, la guida della propria automobile all'altezza di Mezzanego, era stato protagonista di un incidente senza coinvolgere peraltro altri veicoli e senza feriti ovviamente. Trasportato però al pronto soccorso dell'ospedale di Davagna, ha fatto segnare alto il tasso di alcol nel proprio sangue che gli è valso, quindi la denuncia. E come detto, torniamo a Sestri, stasera torna alla Silent Disco, evento che attira migliaia di persone in Baia del Silenzio, diverse le norme di sicurezza che verranno attuate. E' tutto pronto per la Silent Disco, la discoteca silenziosa in Baia del Silenzio a Sesti Rilevante è uno degli eventi del Tiguglio che attrae il maggior numero di persone. L'associazione Mojotic, che organizza l'evento, ha predisposto l'installazione di 12 bagni chimici e si fa carico della presenza di 50 operatori professionali di sicurezza, 8 addetti alle pulizie durante la manifestazione, 12 addetti alle pulizie dopo la conclusione e 10 operai per lo sgombero dell'area interessata. Inoltre, un volantino distribuito ai partecipanti ricorderà le norme di comportamento. Il ritiro delle prevendite da Viva Ticket è iniziato alle 18, l'apertura della biglietteria alle 19. La distribuzione delle cuffie scatterà alle ore 21. Per questo serve un documento di identità da associare sino ad un massimo di 5 cuffie. La musica inizierà alle 22 e terminerà alle 3 di notte e sarà affidata ai DJ Eros Quarantelli e Giovanni Capello, Natta e Frisbee, la Daniva e Dario Mason, spaziando dal revival al commercial pop attraverso house, hip-hop, reggae, rock e indie rock. Il comune di Sesti e Levante segnala inoltre che è opportuno evitare di avere con sé zaini o borse troppo voluminosi. Cambiamo argomento, arriva la conferma definitiva del passaggio ad Anas di 300 km di strade attualmente provinciali della Liguria, classificate come collegamenti di interesse nazionale. Come era previsto fin dall'inizio dell'operazione, lasciano la competenza della città metropolitana di Genova tra le altre la 225 della Fontana Buona, la 523 di Centro Croci, la 586 della Val Daveto e la 654 della Val di Nure. Grande soddisfazione viene espressa dal presidente della regione Liguria Giovanni Totti e dall'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone. Si confida ora che le maggiori risorse dell'Anas garantiscono una manutenzione più puntuale e incisiva. Andiamo a Chiavari sui migranti, atteggiamento ondivago di Di Capua. A dirlo sono i consiglieri comunali di minoranza di noi di Chiavari, Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi. Dichiarazioni non omogenee sulla possibilità di adesione allo Sprar e la proposta non andata a buon fine di spostare al centro Benedetta Cuarone i migranti destinati all'appartamento di Via Vinelli. Sulla gestione dei richiedenti asilo, i consiglieri comunali di minoranza di noi di Chiavari, Roberto Levaggi, Daniela Colombo e Silvia Garibaldi attaccano il sindaco di Chiavari, Marco Di Capua. Non ci spieghiamo, dicono i tre, se non per motivi di opportunità personali, un atteggiamento così ondivago. Levaggi, Colombo e Garibaldi citano il manifesto elettorale del primo cittadino con la croce sulla foto di persone in stato di indigenza e un post dell'attuale assessore Gianluca Ratto che nel 2016 scriveva «Basta finti profughi, dichiariamo guerra agli islamici. Chiediamo al sindaco e alla maggioranza», conclude la nota di noi di Chiavari, «di prendere una posizione chiara e definitiva una volta per tutta». Santa Margherita Ligure, ora perché torna il bus e navetta da Santa Margherita Ligure per San Lorenzo della Costa in occasione della festa patronale e quindi giovedì prossimo 10 agosto. da Piazza Vittorio Veneto a partenza ogni 20 minuti circa, la prima alle 18.10, l'ultima a mezzanotte 25 con tappa alla stazione ferroviaria di Santa Margherita Ligure. Da San Lorenzo della Costa si effettua invece ovviamente il percorso inverso. Parliamo di calcio, sorteggiato al calendario di Serie B per la Vento Santella, prima in casa con il Perugia, intanto domenica esordio stagionale dei Bianco Celesti in Coppa Italia in casa contro la Cremonese. Sarà a Virtus Santella Perugia sabato 26 agosto la prima partita dal prossimo campionato di Serie B al Comunale di Chiavari. La seconda giornata vedrà i Bianco Celesti in trasferta al Pino Zaccheria contro il Foggia e alla terza sarà Giaderbi al Picco di La Spezia contro Lo Spezia. La sfida di ritorno con gli Aquilotti si giocherà al Comunale di Viega Stadi il 3 febbraio. Un inizio senza dubbio in salita, ha confessato l'allenatore interiano Gianpaolo Castorina. Si giocherà in questo campionato di Serie B anche durante il periodo natalizio, con ripresa dopo la pausa il 19 gennaio. In programma ci sono 5 turni infrasettimanali, oltre a quello del giovedì di Pasqua. L'ultima giornata è prevista per venerdì 18 maggio e vedrà la Vento Santella impegnata a Novara. Intanto, domenica, stagione ufficiale al Via per i Chiavaresi che scenderanno in campo per il secondo turno della Coppa Italia. Avversario dei Bianco Celesti sarà la neopromossa cremonese. Calcio d'inizio alle ore 20.30 al Comunale. Si gioca in gara unica. In caso di parità dopo i 90 minuti sono previsti due tempi supplementari da 15 minuti l'uno. E se la situazione di parità dovesse perdurare saranno i calci di rigore a stabilire chi potrà accedere alla fase successiva. Se la Vento Santella dovesse superare la cremonese, ad attenderla ci sarà la vincente della sfida tra Bari e Parma. Per concludere, giunta a sesto e levante la comitiva dei bambini della zona di Cernobil, ospitata dalle famiglie dell'associazione La Baia delle Favole. Il prossimo 11 agosto si svolgerà invece la cena di solidarietà del circolo Acli di Villa Tassani. Il menù proposto è ripieno alla genovese, taglierina al sugo di funghi, pollo alla diavola con patatine, semifreddo per un contributo richiesto di 20 euro a favore delle attività di accoglienza dei bambini ucraini. Occorre prenotarsi entro l'8 agosto ad uno di questi numeri. 0-1-8-5-46-63-32 ripeto 0-1-8-5-46-63-32 oppure 0-1-8-5-44-42-3 ripeto anche in questo caso 0-1-8-5-44-42-3 chiamando allora dei pasti. Alla scoperta del territorio delle nostre valli con la natura, il turismo, le grandi tradizioni. Il gruppo Meraviglia d'Aveto con le sue guide da alcuni anni opera sul territorio non soltanto portando i cosiddetti gitanti sul posto, sulle vette, nei laghi e nei circhi glaciali, ma parlando anche di storia e della tradizione. Le guide che compongono il gruppo dell'Aveto è composta da Guglielmo Bellone, Laura Arciola e Andrea Percivale. Iniziamo proprio da Guglielmo Bellone che ci racconta come è nato questo gruppo Meraviglia d'Aveto. Buongiorno a tutti, io sono Guglielmo. Abbiamo cominciato con Andrea e Laura un po' di anni fa a riprendere un'attività che era stata iniziata addirittura 20 anni fa da una guida storica dell'Aveto che era Giuseppe Maggiolo. Siamo delle guide ambientali escursionistiche, professionali e abbiamo deciso di promuovere l'Aveto perché è particolarmente bello e particolarmente interessante da vedere. Un Aveto che non è soltanto gite ed escursioni ma bellezze antiche come i circhi glaciali, le torbiere, i laghi. Sì, l'Aveto ha delle caratteristiche importanti ed interessanti sotto tutti i punti di vista naturalistici. Diciamo che da un punto di vista della vegetazione abbiamo una varietà di piante e di fiori estremamente ampia perché gli habitat sono estremamente diversi. Abbiamo i suoli ricchi e profondi dove crescono e nascono bene le latifoglie e quindi boschi di latifoglie, in particolare la faggeta che è un ambiente particolarmente bello e rilassante. Abbiamo delle pietraie e zone rocciose impervie dove ci sono delle condizioni ambientali particolarmente difficili e in queste spesso troviamo il pregio della rarità perché le piante hanno più facilità ad adattarsi ad ambienti anche ostili rispetto invece al competere con altre piante. Esistono delle zone dove ci sono dei greliti glaciali, zone appunto rocciose ma anche particolarmente fredde e inospitali e qui è facile incontrare dei greliti glaciali ovvero delle piante che durante le glaciazioni alla discesa dei ghiacci hanno effettuato delle migrazioni verso sud e verso latitudini più basse e che poi quando invece la temperatura ha cominciato ad aumentare nuovamente hanno preferito rimanere in quella zona proprio per liberarsi. Diverse le rocce che compongono ad esempio il Montaiona e il Montepenna. Sì, ecco, una caratteristica estremamente interessante della zona dell'Aveto è la geologia che è un po' ostica da conoscere e da comprendere però è particolarmente interessante. Intanto il territorio dell'Aveto è un territorio di tipo glaciale ed è evidenziato questo dai circhi glaciali che si vedono sulla cima del Montaiona dalla stessa dislocazione di Santo Stefano d'Aveto che è costruito su dei terrazzi morenici la presenza di laghetti che sono in realtà delle torbiere, delle paludi e che hanno comunque un'origine glaciali anche loro. Abbiamo poi quelle che vengono chiamate le serpentiniti, leofioliti che sembrano le parole astruse ma che rappresentano una caratteristica abbastanza particolare di questo lato che lo avvicina abbastanza al Beigua che è considerato un geoparco. Per quanto riguarda le torbiere è anche quello un ambiente particolarmente interessante perché è caratterizzato da asfitticità del terreno mancanza di ossigeno, presenza di sostanze organiche e quindi abbastanza pericoloso. Non ci sono delle piante particolarmente significative dal punto di vista della fioritura ma interessanti per quanto riguarda gli adattamenti all'ambiente. Laura Arciola, guida escursionistica professionale abilitata dalla Regione Liguria chiediamo come è nato l'amore per questa attività. Sì, fin da bambina io ho frequentato sentieri e ambienti naturali l'Aveto fin da piccola poi ho avuto un'esperienza nel gruppo scout quindi sempre su e giù per monti e poi ho operato come guida volontaria per diversi anni gli ultimi anni invece proprio come guida professionale per trasmettere questo piacere, questa passione per la natura, per la vita all'aperto agli altri. Voi come guide preparate una ricognizione ogni volta? Certo, questo è un aspetto fondamentale dell'escursione lavorare prima a tavolino sulle carte su tutta la documentazione che si può avere ma poi anche andare a verificare di persona lo stato dei sentieri quali sono le emergenze i punti di interesse da approfondire e da poi comunicare ai partecipanti. Il vostro gruppo non si occupa soltanto di le gite vere e proprie ma va anche alla ricerca della storia delle tradizioni di quello che è rimasto sul territorio soprattutto anche da far vedere ai bambini. Questo sicuramente anzi io direi che quello che vorrei proprio incoraggiare è l'atteggiamento del bambino quindi l'apertura, la curiosità, la disponibilità a sperimentare, a vivere attivamente ciò che ci sta intorno. Noi sicuramente proponiamo anche un rapporto stretto con l'ambiente anche per quanto riguarda le attività umane che sono state così importanti nel condizionare l'aspetto del paesaggio nel corso del tempo. Per cui io personalmente ogni volta che vado in ricognizione cerco di chiacchierare con le persone intervistare gli anziani raccogliere esperienze di vita vissuta testimonianze del passato e del presente da riportare poi alle persone in gita e durante le gite tutte le volte che è possibile andiamo anche a visitare le attività tradizionali che ancora si svolgono sul territorio quindi per esempio l'apicoltura e la produzione del miele anche da parte di giovani l'allevamento dei bovini e la produzione del latte che è un'eccellenza la visita all'ultimo mulino della valle che tuttora macina cereali e castagne insomma tutto ciò che è possibile proprio per cercare di incoraggiare queste attività di sostenerle in modo che continui a esserci qualcuno presente sul territorio che ne abbia cura anche perché il giorno che il territorio va in rovina nemmeno noi escursionisti possiamo più goderlo Nel presentare Andrea Percivale non possiamo dimenticare che è laureato in geografia con una tesi che abbraccia a grandi linee la zona compresa tra il passo del Crociglia e il passo del Tomarlo Sì, io prima di fare la guida professionale avevo preso appunto la laurea in geografia ho fatto una tesi di gioturismo proprio incentrata sulle montagne che sovrastano Santo Stefano appunto fa il passo del Crociglia e il monte Tomarlo e volevo evidenziare che potete trovare le nostre iniziative sul gruppo Facebook di Meraviglia e Daveto noi facciamo un calendario annuale da Pasqua fino a fine anno e poi un calendario di escursioni rivolte al periodo invernale principalmente ciaspolate oppure escursioni in bassavalle in caso di scarsità di innevamento potete trovare sempre le nostre iniziative sul sito istituzionale del comune di Santo Stefano Daveto www.comunesantostefanodaveto.g.it sempre su internet noi siamo collaboratori col consorzio ospitalità diffusa delle valli a Veto Graveglia e Sturla quindi sul sito www.unamontagnalaccoglienza.it nella sezione news ed eventi e potete lasciare anche il vostro indirizzo email o al rifugio Prato Cipolla oppure all'ufficio di Santo Stefano Daveto di informazione ed accoglienza turistica e noi invieremo le newsletter sempre le nostre iniziative sono anche all'interno del Depliant realizzato annualmente dall'Unione dei Comuni dell'Alta Val Daveto cioè Santo Stefano e Rezzo Aglio e appunto una pubblicazione cartacea all'interno della quale sono presenti le nostre escursioni Un'altra domanda qual è il grado di difficoltà delle vostre escursioni? Sì come guide professionali ovviamente cerchiamo di aprire il più possibile le nostre iniziative a tutti perché comunque si tratta tendo a precisare non ad escursioni che hanno carattere di prestazione sportiva ma si tratta di visite di passeggiate volte alla conoscenza agli approfondimenti spiegati dai miei colleghi relativi al territorio e quindi comunque si tratta appunto di favorire una partecipazione più ampia possibile in ogni caso noi dettagliamo con dislivelli e tempi di percorrenza ogni singola iniziativa Nel periodo estivo qual è l'abbigliamento consigliato per gli escursionisti? si tratta di utilizzare scarpe comode preferibilmente scarpe da trekking in qualche caso è consigliabile avere i bastoncini perché comunque ci sono alcune zone come appunto spiegato il mio collega Guglielmo si tratta di una zona che ha le morfologie alpini quindi ci sono alcuni sentieri con pietraie con alcuni tratti scoscesi e magari appunto è preferibile avere i bastoncini ma comunque si tratta di passeggiate quindi scarpe da ginnastico da trekking abbigliamento comodo ovviamente un impermeabile perché si tratta comunque di una zona montuosa e quindi può esserci qualche temporale estivo ultima domanda l'attività del gruppo Meraviglia d'Aveto con le sue guide non si ferma nemmeno d'inverno? no in caso di innevamento facciamo le ciaspolate molto apprezzate specialmente negli ultimi anni e qualche volta proponiamo sempre in relazione a quelle che sono le attività tradizionali cioè la presenza di o agriturismo o comunque produzioni particolari attività in bassa quota nell'ultimo anno sostanzialmente in bassa Val Graveglia un'iniziativa particolare contraddistinto l'ultimo fine settimana per il gruppo Meraviglia d'Aveto sì sono appena tornata da un indimenticabile weekend con notte in tenda sotto alla luna piena il sabato abbiamo avuto un'escursione molto coinvolgente in un ambiente estremamente selvaggio e siamo andati a visitare l'abete bianco più antico della vallata che ha ben 500 anni poi abbiamo avuto qualche momento di relax di gioco divertente al Prato della Cipolla e cena al rifugio la notte l'abbiamo trascorsa sul Monte Roncalla appunto sotto la luna piena abbiamo goduto di una splendida alba e il giorno dopo escursione chiaramente più tranquilla più rilassante tutto questo per cercare di far sì che i partecipanti godano della natura anche in orari inconsueti per esempio di notte possiamo anche udire gli animali notturni quale l'allocco abbiamo anche un'altra proposta che permette di immergersi nell'ambiente dell'aveto in serata una proposta più semplice quindi facciamo una breve escursione serale la cena sempre al rifugio della Cipolla e poi la discesa serale al buio sotto le stelle attraverso il bosco che è assai emozionante bene non mi resta che lasciare le previsioni meteo per la giornata di domani alla programmazione di Entella TV ricordo che l'informazione locale della nostra emittente tornerà domani alle 12.45 alle 14.15 con il TGT Guglio Gente mentre di serata andrà in onda il TGT Guglio Tradizionale alle 19.30 alle 22.45 con Fabio Guidoni grazie per l'attenzione a domani previsioni per domani sabato 5 agosto cielo sereno al mattino dal pomeriggio possibili cumuli a sviluppo diurno nelle zone interne della regione venti calmi o deboli variabili mare calmo al mattino in aumento a poco mosso umidità su valori medi le temperature previste sulla costa tra 22 e 31 gradi nell'entrotera tra 10 e 30 gradi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.